allora Genova-Roma è una partitaccia perché è una partitaccia Genova-Roma lì piove e porto e navi lì e bacia ah già gioca a Genova Genova a Genova gioca a Genova però gioca a Bocio alla Mela lì e con Bocio alla Mela e Osvaldo se la Mela si arriva come l'altro giorno come domenica quel goletto alla Roma gli aprirebbe pure e va quindi è il pronostico di Carletto io ci metterebbe sto Bertù e Bertù a zero per la Roma speriamo che gli apriamo c'è freddo per me? no no che sei emozionato quando parlo della Roma mi emoziona che viene una bella toga ma la Roma sta risalendo? a Roma stiamo a risalendo, stiamo a 11 stiamo e a Lazio? a quattordi? a quattordi? a quattordici non andiamo a quattordici a un punto l'hanno fatto Montella a Roma devi vincere stasera Roma, Roma un bel 2 a 0 sento l'orecchio un bel 2 a 0 a Roma e Osvaldo la Mela ma è tutto è uno o soprattutto? sono due Osvaldo e la Mela fa un bel proletto prima Osvaldo e al secondo tempo la Mela perché noi fanno sempre 1 a 0 e poi al secondo tempo siamo sempre soffrii a voce mentre i memandiamo a casa e poi sabato sì temo leggo oggi e poi sabato soffrii scorriale, ma d'amore no si temo leggo Grazie a tutti.